Lazio-Juventus 2-1, Sassuolo-Juventus 1-0, Juventus-Napoli 0-1. La Juventus non perdeva tre partite consecutive in Serie A dalla stagione 2010-2011, tra febbraio e marzo quando la Juve di Del Neri perse in trasferta 2-0 contro il Lecce, in casa 2-0 contro il Bologna e ancora in casa 1-0 contro il Milan. Erano quindi più di 12 anni che la Juventus non metteva in fila tre sconfitte consecutive in campionato. Grazie Max, sempre il migliore, per questo nuovo record e guaiato. Davvero un allenatore straordinario, altro che Del Neri. Grazie Max, Allegri is the best, Allegri in, mi raccomando. Ricordiamo questi record, ricordiamo quanto Allegri ha portato la Juve ad essere di nuovo grande. Grande Max!